Chiaramente siamo tutti delusi per l'infortunio a Suarez, almeno noi che lo conosciamo. Magari non l'Inghilterra, ma chi lo conosce sarà molto deluso, visto che è un giocatore importante per l'Uruguay. Gli ho mandato un SMS augurandogli di poter recuperare, visto quello che ha fatto questa stagione. Sono sicuro, conoscendolo, che lotterà fino alla fine. Sono certo che, se non alla prima, alla seconda partita del Mondiale sarà pronto e scalpitante per scendere in campo. L'Uruguay non è solo Luis, anche se è straordinario. Hanno altri ottimi giocatori, sono un'ottima squadra per la quale stiamo studiando opzioni per come rispondere e trovare le giuste contromisure. Per ora concentriamoci sul lavoro da fare, per noi però resterà fondamentale il debutto contro l'Italia.